Hola gentaglia, benvenuti su questo nuovo video di New Nocturnal In questa nuova rubrica di spam e in attesa di revisioni Che cosa consiste tutto questo? Vi rivelerò quello che si c'era dietro nei commenti della community O quelli che non passano Quindi andiamo subito con i primi In attesa di revisione abbiamo The Arkham Players che scrive Like, bravo! Però non è passato, mi dispiace Sigio Game Sigio Game Ricordatevi i nomi Perché io più in più non li sto sponsorizzando Se non ci fate caso Questo è anche un video sponsorizzazione oltre Sigio Game dice Bel video, se ti vai, iscritto, ricambi, bella No ragazzi, non funziona così per me Al... Il mondo di Andrew Hai un commento di Gex Oh, crede si pronuncia così Ah no, è un riferimento a me Più non nocturnal Grande, like, ricambi lasciandomi un bel like al commento sotto il mio primo video E il commento sotto il primo video? Il mio primo video? No Perché il tuo commento diciamo non ha senso verso il mio video Funziona male Funziona male Daniel Channel Game Dice Bel video, mi sono iscritto Ricambi Tu bello de casa Perché mentre hai fatto su quattro parole No, vabbè, su un po' tre parole Diciamo che hai preso quasi tutte quelle che ti bloccavano Però, ciccia Abbiamo MintDolphin4967 Che scrive Bel video Like Meritato Mi sono anche iscritto Se ti va, passa dal mio canale Ok, come dito con tutti gli altri No Per Chain Room Gaming Eh, las Las e Iaia O laia Ti scrive Ciao, mi sono iscritto al tuo canale Molto volentieri Ti andrebbe di ricambiare Grazie mille Chain Room Gaming Rispondigli Anche se Non è passato Fabiats1993 Like per te Bel video Passa da me Lascia un like nel mio ultimo video Grazie bro Ma che Perché sto bro Perché non ha senso FrankGamer99 Ci dice Ho messo like al video Bravo Se vorresti Scusate Non ci sono virgole Ho messo like al video Bravo Se vorresti essere sponsorizzato Iscriviti al mio canale Ci sarà Il regolamento sotto il mio video Ti aspetto Ciao Scusate rega Ma ho messo qualche virgola E c'è stato un punto Però Punteggiatura EpicGamers Ita Ci scrive Iscritto Ricambi Tu Su due parole Hai preso proprio quelle due Che sono bloccate E ve le rivelerò Verso la fine Così potrete entrare anche voi In questa nuova classifica Eddie Official Tube Scrive Iscritto Iscritto E messo like Spero Ricambi Speri male K24 YouTube Un mese fa Quei stiamo parlando di un mese fa Ci scrive Iscritto Ricambi Avete scelto inventivo Alcune volte che fa quasi paura E adesso Iniziamo Alla Mese sangue Darnato Logica bestia Iniziamo Nella Top F 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 Top Di quelli che sono bloccati Dallo spam Di YouTube Perché sono considerati Spammatori Serie A Non lo so perché Cominciamo dal più vecchio Questa poll Perché 14 commenti E me ne mostra molto di meno Va bene Il primo a cui classifica Vecchio Vecchio Abbiamo Mi controllo il naso Perché Ho molte pistasse Quelle volte Abbiamo Una settimana fa Astral Gaming Con Like bro Iscritto Ricambi Cioè Sì Su quattro parole Conta che tre Prese proprio De spam Mi congratulo Però chi ha fatto Quattro spam Ne sarei curioso NiktraTV Una settimana fa Ci dice Grande Pokémon Like Molta fantasia Però avete voi Gioschi Like Visto il nuovo video No No proprio Leobigi Iscritto Ricambi Punto interrogativo Introgativo No Xuluka Che Un commento Su È passato Mal Questo No Carino Se ti va Dai un'occhiata Al mio canale Se mi va Però mi hai detto Quindi Sono tanti Da controllare Comunque Scusami Però Ti ho citato Nel mio video Ti ho citato Ti ho citato Lo dico a tutti In realtà Anonymous Gamer Che sei giorni fa Ci dice Like Puoi ricambiare Al mio ultimo video Grits Grits Comunque Inizio Epics Sono curioso Di sapere Ma tu hai visto Solo l'inizio Grits Grazi Si pronuncia Grits 93 Ci Ci scrive No stai fermo Stai fermo Questo passa Che cazzo Di gioco figo Like per te Bomberissimo E questa un giorno Me la dovete spiegare Perché bomberissimo Illuminatemi Allora Cazzo Che cazzo Di gioco figo Like per te Bomberissimo Rimaniamo attivi Se vuoi Passa da me Hashtag Stai cipolla Regà Ha vinto Questo Ha vinto Non so Perché Però Non mi ricordo Neanche io Che hashtag Metto ogni tanto Però cazzo Programer 94 Ci dice Iscritto Rigambi Manca una virgola Manca un punto interrogativo Manca un punto Like Vecca channel Che io Segu Soprattutto Per i dolci Perché ogni tanto Ogni domenica Fa uscire un video Mi scrive Assolutamente Like Signorina Tu sei finita Nella zona spam Non dico per sbaglio Ma più che altro Perché Non lascio passare Questi commenti Se non vedi il video Non c'è bisogno Che mi scrivi Da te Io ti seguo Solo perché fai dolci Perché li fai belli E li fai buoni E mi piacciono Ah se è fatto bene Montato bene Non c'è bisogno Che scrivi così Tanto per scrivere Fathersteel Scrive Due giorni fa Bel video Like meritato Da me è uscito Un nuovo video Se ti fa Vallo a vedere Mi farebbe molto piacere Continua così Sei un grande Restiamo attivi Mi raccomando Comunque mi raccomando È separato Mi raccomando Bel video Like meritato E poi subito Mi chiedi Da me è uscito Un nuovo video Mi storsce un attimo Il capello Quale Che ho detto Che ho detto Due giorni fa Sempre One game Official 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 Bla 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 Bro Guardate il mio ultimo video È un contest Dove puoi vincere Una bella grafica Mi dispiace La grafica Me l'hanno già fatta E sono molto contento così Molto contento così Molto contento così E se dite che la grafica Fa schifo Offendete quello Che ci si è messo Di impegno Rendete bene conto La mia Do sta la mano Rendete bene conto Ok Ok Pago Due giorni fa Nuovo video Da me Ti prego Mettete le virgole Per l'amor da mio Nuovo video Da me Like Come sempre Passa da me C'è Ego Notare l'ego Due volte me Per favore Pago Comunque no Questi che sono rimasti qui E no Non a tutti Secondo in classifica E Manuel Mensa Con un giorno fa Grandissimo Senti Vorresti passare dal mio Questo canale E molto bravo E fai video di ogni tipo Ecco il suo link Lo vedete qui Comunque iscriviti Ricambierà sicuramente Bella E scusa per lo spam No io non ti scuso Per lo spam Anche perché Prima devi superare Il youtube Che ti fa inserire Nella zona spam E io non ti do La certezza Che ti lasci passare Poi Hola Doriso Mi scrive Boa sorte E successo Un bel link E molto buon Sego star Inscrevasi Cazzo vuol dire Se me lo scrivi Almeno in inglese Almeno in inglese Che magari io riesco A tradurlo Ma se io faccio Una ricerca qui Che mi compare Ma che ne so Che mi compare Non lo vado a cercare Magari qualcuno Il nome degli Illuminato Qui mi scrive anche Null Questo è Bla 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 Mi sembra Conte tra quello Dopo aver visto Castelvania Faccio soltanto Bla 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 Ragazzi Spero che questa nuova rubrica Mi piace Il prossimo sarà Appena abbiamo raggiunto Il tot spam E vi dico Cosa dovete fare Per finire In questa classifica Per finire in questa classifica Sì Io praticamente Sto sponsorizzando I vostri canali In poche parole Ma non in senso positivo Certo alcuni Che sono finiti qui Però Non volendo Nel senso Va bene Per finire in questa In questa classifica Dove La lista nera Le parole della lista nera Sono Iscritto Ricambi Ricambio Spero E like Possibile Probabilmente Ne aggiungono molto In futuro Dipende da voi Che cosa vi inventate Io sono molto curioso Di voi Spero in voi Confido in voi Ho fiducia In voi ragazzi Spero di leggere Molte altro Spam Di quello che Posso aver immaginato Ricambi Fate un po' felice Perché E' bello Leggere lo spam Ogni intanto Anche se Sarà volgarissimo Oltre immagino Spero che questo video Vi sia piaciuto Spero che abbiate apprezzato Il fatto che vi abbia Sponsorizzato Così a gran massa E noi ci vediamo Nel prossimo video Se il video vi è piaciuto Lascia un like Se vuoi Intanto non c'è bisogno Di lasciare un like Verrai sponsorizzato Basta che finisce Nella cartella spam Mi piacerà Beh anche In realtà Mi piacerebbe anche Notificarvi Così Per la presenza Perché molte persone Non guarderanno Il video E vedremo Che cosa posso fare Vediamo Ok Noi Da nulla è tutto Ci vediamo Nel prossimo video Che si terrà Fra un Non so Quando Dipende tutto Da voi Bye Bye